Innanzitutto io dico massimo rispetto per le indicazioni che provengono dal territorio fatte da cittadini e in questo caso da un cittadino di cui prendo atto anche delle cose stesse che lui ha riferito e sulle quali in qualche modo cercheremo di intervenire. E che poi questi borghi molto lontani dai centri abitati, ad altri centri abitati maggiori, molto lontani dalle vie di comunicazioni, spesso si sentono un pochino abbandonati, questo ci sta e sicuramente in parte è anche vero. Quindi a un anno e poco più dal mio insediamento abbiamo cercato di dare alcune risposte diciamo significative seppur magari non esaustive come ad esempio l'illuminazione principale nell'incrocio con la provinciale che non era quasi del tutto illuminato ma penso anche alla pulizia proprio delle mura che circondano il borgo di Pozzuolo, l'abbiamo pulita sia l'anno scorso che quest'anno ed erano anni e anni che non venivano più pulite. Poi abbiamo cercato anche proprio di animarlo il borgo ad esempio di tenere in considerazione le loro esigenze. L'anno scorso e credo che anche quest'anno sia una situazione simile c'era un solo bambino di quella frazione centro storico che doveva frequentare la scuola di Tavernelle ed il pulmino lo andava a prendere sull'incrocio della provinciale cioè due chilometri lontano da casa. Io ho proprio chiesto e ho ottenuto dalla società dei trasporti che invece il servizio venisse fatto a casa proprio per non far sentire isolata quella famiglia e quella frazione del resto diciamo dei servizi. Ma poi anche ad esempio l'illuminazione natalizia. L'anno scorso per la prima volta abbiamo illuminato il borgo di Pozzuolo. Durante l'estate abbiamo animato il borgo con diverse iniziative in collaborazione con Arfan Animation, con l'associazione Ville Castella abbiamo fatto un'iniziativa culturale molto bella, molto seguita e che hanno riempito diciamo il borgo di persone. Ecco è un modo anche di far conoscere questa zona, di valorizzarne al meglio diciamo le sue caratteristiche. Abbiamo visto nel giro che abbiamo fatto un splendido lavatoio purtroppo immerso nella vegetazione e anche una bella chiesa che purtroppo non è aperta. Allora su entrambe queste cose ci sono diciamo alcune novità. Innanzitutto va detto la chiesa non è una chiesa comunale ma è una chiesa di proprietà della Curia, oltretutto lì la parrocchia quella di Cartoceto anche se il territorio di Coglio al Metauro. E su quella chiesa c'è una volontà di ristrutturazione da parte della Curia. Per quel che riguarda il lavatoio, ma l'hanno fatto presente più volte i cittadini, è un luogo caratteristico, simbolico diciamo così, dove un tempo tutti andavano a lavare i panni in quel luogo eccetera. Occorrerebbe ripristinarlo con un restauro, una rimessa in funzione, anche una pulizia da rovi e sterpaglie. Noi abbiamo inserito già da adesso il lavatoio di Pozzuoli insieme a quello di Serra Ungarina, insieme a quello di Saltara, in una richiesta fondi europei per la valorizzazione di questi siti storici e anche per la loro promozione, perché noi fini turistici e di visita da parte di tante persone.